Volete iniziare a giocare al TCG di One Piece ma non sapete da dove cominciare? Non volete spendere da subito una cifra importante per montare un mazzo? Quale potrà essere allora il colore che più si adatterà alle vostre esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il TCG di One Piece ha attratto a sé diversi curiosi, fan del manga, della serie animata o semplicemente appassionati di giochi di carte collezionabili che hanno voluto testare le dinamiche di questo nuovo prodotto. Ma la distribuzione è limitata dai vari box di espansione, partiti con OP01 seguiti a ruota dai 4 starter Luffy, Kid, Croco e Kaido e continuata con OP02 e i due deck di Shanks e Sagazuki hanno creato una scherza reperibilità delle carte che si è tradotta in un accesso dalle barriere molto alte che difficilmente si sono potute scavalcare per accedere al gioco giocato. Perdonatemi il gioco di parole. E così più di un aspirante re dei pirati ha visto un mare stranamente in secca che ha impedito loro di salpare alla volta del tesoro lasciato in eredità dal grande Roger. Solo negli ultimi mesi comunque, grazie all'arrivo del gioco di carte sulle principali piattaforme dedicate alla compravendita, le prime navi hanno potuto lasciare gli ormeggi dirigendosi a vele spiegate verso l'oceano aperto. Ma altri hanno riscontrato alcune difficoltà a livello decisionale, non sapendo con quale leader iniziare e lasciando che il tempo peggiorasse ulteriormente la loro situazione. Ma nessuna paura! In questo video anche coloro che hanno ammainato le vele dirigendosi a piede spedito verso la vita di campagna rinunciando a solcare i mari potranno trovare una guida rapida sul come affrontare al meglio l'inizio della loro avventura focalizzando ogni sforzo nel migliore dei modi. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i 6 punti fondamentali che vi forniranno una guida rapida sugli acquisti da fare in modo efficiente e focalizzato nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Scegliere un colore tra i 5 disponibili in gioco. Di colori attualmente ne sono presenti 5, 6 se prendiamo in considerazione anche il giallo in arrivo con Big Mom in OP03. Il consiglio che posso fornirvi in questo primo punto è sceglietene uno e uno soltanto. Magari se vi state avvicinando ora al gioco i più economici saranno di sicuro il blu con Ivankov e il verde con Kinemon, almeno per quanto riguarda i deck competitivi. Altrimenti ci sarà il Viola, che attualmente è quello che costa meno, non è in meta ma può comunque dire la sua in un evento organizzato se giocato al meglio. Ci sarebbe anche una quarta opzione, che è quella che vi consiglio, ovvero l'ibrido tra blu e verde grazie a Sanji. Infatti questo leader è al momento quello che vi richiederà uno sforzo economico davvero minimo, calcolando anche che per il buon 90% sarà composto da carte comuni. E la cosa bella sarà che se costruito al meglio potrà davvero dar del filo da torcere ai vostri avversari e il tutto con un investimento iniziale di una cinquantina di euro circa. Settimana prossima non perdetevi il consueto appuntamento settimanale dove porterò la profile proprio del cuoco. Testare il deck scelto sulla piattaforma online Mettiamo caso che avrete deciso di provare a montare proprio un Sanji. Prima di procedere all'acquisto però dovrete provarlo, per comprendere al meglio le varie dinamiche di gioco che muoveranno questo deck. E sì, Arconte, è senza mazzo come lo testo. Online. Infatti grazie alla piattaforma digitale del gioco, il quale tutorial lo troverete cliccando sulla scheda appena farsa in questo momento, riuscirete a testare il mazzo contro altri giocatori provenienti da tutto il mondo, comprendendo appieno sia i punti forti che deboli del leader che avrete deciso di rappresentare. Una volta che la fase di testing sarà giunta al termine, calcolate almeno un minimo di 50 partite per comprendere il processo in modo sufficiente e compreso se quel leader si adatterà al vostro stile di gioco, potrete procedere al terzo punto. Acquistate le carte singole Singole e non box. Perché? Per massimizzare la resa. Non sarà certo che in un box troverete tutte le carte che vi torneranno utili per completare il deck che avrete intenzione di giocare, ma se il vostro scopo sarà comunque quello di comprarli, prendetene almeno tre per avere una fortissima base di partenza per provare praticamente quasi tutto quello che questo TCG avrà da offrirvi. Ma in questo caso non credo si parlerà di giocatori che avranno intenzione di provare, ma tutt'altro target. Tornando a noi, comprare le singole limiterà l'uscita inutile di risorse economiche atte a completare la vostra opera di ultimazione del deck che avrete scelto e quindi avere tra le mani fisicamente l'insieme di carte che avrete sperimentato digitalmente durante la fase di testing. Ci saranno a vostra disposizione per rispondere a queste esigenze il classico Car Market e il nostrano Car Trader, dove registrandovi con il referral che vi lascerò in descrizione, riceverete 2 euro di bonus da spendere come meglio crederete. Chiedete comunque ai giocatori locali e ai proprietari delle fumetterie del posto prima di procedere agli acquisti online. Perché? La maggior parte delle volte, soprattutto se vi serviranno delle comuni, risparmierete cifre che nel complesso saranno davvero esigue, ma reperirle gratuitamente di certo farà più che bene al vostro portafogli. E se nella lista che ho scelto ci saranno anche carte presenti negli starter? In quel caso comprate lo starter direttamente, meglio 2, dato che saranno presenti in essi anche altri elementi che verranno giocati nel vostro o in altri deck appartenenti alla tonalità che avrete scelto. Un esempio tra tutti, i luffy a costo 5 con i Jet Pistol. Ciò potrà darvi la possibilità non solo di completare il mazzo che avrete deciso di giocare, ma allo stesso tempo buttare una base di partenza pronta per un secondo deck avendo a disposizione i playset completi presenti negli starter stessi. Concentrare i costi su un singolo mazzo senza spendere soldi in modo differenziato. Ora, buttare le basi per altri deck andrà bene, ma se sarete nuovi del gioco dovrete ricordarvi che, fino a che non completerete la lista che avrete scelto, per voi i restanti leader saranno zona off-limits. Ricordatevi queste parole, spendere soldi agli inizi per cercare di completare diversi deck vi porterà solamente a non completare nulla, lasciando lavori iniziati con tutti i buoni propositi del mondo inevitabilmente a metà. E con metà mazzo a vostra disposizione non potrete partecipare ad eventi. Piuttosto ponete l'attenzione unicamente, lo ripeto ancora una volta, sul portare a compimento la lista che avete scelto e non cedete alle tentazioni di prezzi vantaggiosi che riguarderanno altri elementi presenti in deck diversi dal vostro. Ad esempio, se giocherete Ivan, acquistare un luffy a costo 6 blu ad un prezzo conveniente andrà bene, mentre un luffy rosso a costo 5 no. Una volta quindi che avrete completato il mazzo, avendo a disposizione ogni carta in esso contenuta, potrete procedere al prossimo punto, quello che getterà le basi reali della vostra scesa come re dei pirati. Partecipare ai tornei locali tentando di piazzarsi in top andando a premio Andare a premio, cosa vuol dire? Se riuscirete a conquistare un posto alto nella classifica, tipo secondo, terzo, quarto o addirittura vincendo l'evento, vi verranno assegnati dei premi che di solito saranno o buoni da spendere nel negozio in questione o articoli tipo bustine di espansione o quant'altro. Se riuscirete ad ottenere delle bustine, ad esempio, aprendole potrete procurarvi con discrete probabilità delle carte che potranno far parte della vostra collezione o addirittura tornare utili per completare liste che avevate in mente di creare. Per i buoni cercate di accumularli per poi spenderli in previsione dell'uscita di nuovi starter o box di set futuri così da affrontare le nuove espansioni in modo più aggressivo e competitivo senza rincorrere sempre i vari meta che si susseguiranno anno dopo anno. Una volta che avrete raggiunto questo step, per voi la strada inizierà ad essere leggermente in discesa, possedendo tutto quello che vi occorrerà per portarvi in pari con i vari set più giocati del momento. Quindi, dopo aver affrontato e superato i cinque passaggi che vi permetteranno di investire il vostro denaro in modo oculato ed efficace, non vi resterà altro da fare che ripetere l'intero processo da capo. Già in questo modo, giocando magari un secondo colore o restando fedele al principale, potrete esplorare il gioco al meglio o rafforzare le conoscenze della tonalità che vi ha visto nascere come aspiranti re dei pirati. La scelta a questo punto spetterà solo ed unicamente a voi. Questi sei punti sono stati frutto di esperienza personale, dato che, come voi, anche io sono stato ormeggiato al molo per diverso tempo. Praticamente ho perso tutto P01, non riuscendo a sbustare neanche una singola bustina. E quindi, come già ho detto, ho agito per acquisti singoli, chiedendo ai giocatori e ai commercianti locali, riuscendo con tempo e pazienza a completare l'intera collezione in quattro per, così da avere la possibilità di provare qualsiasi mazzo mi andasse di giocare. Però P02 è stato diverso, dato che, avendo completato Romance Down, mi sono tolto l'osfizio di acquistare quattro box per dare una marcia in più alla mia collezione. E per chi ha visto la live, sa com'è andata a finire. Se ve la siete persa, troverete il video riassuntivo nella scheda appena parsa in questo momento. Un ulteriore consiglio, prima di concludere se state iniziando a giocare ora, è quello di porre l'attenzione anche sulle edizioni delle carte. Mi spiego meglio. Uno Zorro Rush versione normale ed uno con versione alternativa dell'immagine, di diverso avranno solo l'immagine per l'appunto ed una settantina di euro di valore, ma l'effetto sarà sempre lo stesso, quindi ottimizzate il budget anche sotto questo aspetto. Ricapitolando, scegliete il vostro leader, testate la profile, acquistate carte singole, concentrate i vostri sforzi sul completare la lista fisica, partecipate ai local e ripetete. Questi sono i 6 punti fondamentali che vi consiglio di seguire per ottimizzare al meglio i vostri acquisti nel magnifico TCG di One Piece. E voi avete già in mente con quale colore salperete con il vento in poppa per la rotta che al tesoro porterà? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.